Gian Guido D'Alberto dopo un primo testa a testa con Cristiano Rocchetti alla fine l'ha spuntata lei al ballottaggio, quanto è felice? Felicissimo, ringrazio veramente tutti i cittadini terramani, non solo quelli che mi hanno sostenuto e votato e felicissimo perché veramente si apre da qui al 24 una nuova partita, una nuova partita che è anche un'occasione unica per poter cambiare veramente la storia di questa città. Come pensa di vivere questo scorcio di campagna elettorale fondamentale chiaramente? Con una grande carica, un grande entusiasmo che mi dà questo risultato e nella consapevolezza che dobbiamo recuperare un divario ma nella stessa consapevolezza che ci sono tutte le condizioni per farlo. Ovviamente qualche conto se lo sarà fatto, a suo parere i sostenitori del Movimento 5 Stelle, i sostenitori di Cobelli, di Mauro di Dalmazio e così via come si comporteranno? Non lo so, io parlerò molto alla città in queste due settimane, nella prima fase della campagna elettorale abbiamo dichiarato ho dichiarato sempre di non avere alcuna intenzione di fare apparentamenti e quindi avendo una parola sola confermo assolutamente questo. Mi rivolgerò molto agli elettori puntando molto su quella che è la realtà, perché in realtà non si tratta di uno scontro tra centrodestra e centrosinistra quello che vivremo il 24 giugno, ma uno scontro fra la discontinuità che noi rappresentiamo e la continuità con la vecchia amministrazione che è rappresentata dalla coalizione che sostiene Gian Donato. Avremo molto tempo per parlare appunto dei suoi programmi e dei suoi desideri per questa città, ma parliamo invece dello stretto presente. Questa notte com'è andata? Quando ho saputo che sarebbe andato al ballottaggio, com'è reagito? Un grande entusiasmo, dopo una prima fase di testa a testa, poi c'è stata la certezza dell'allargamento del divario derivante dalle sezioni più grandi e abbiamo reagito con grande entusiasmo. In realtà non abbiamo avuto il tempo di festeggiare perché è stata una notte continua di fatto, in cui non abbiamo neppure né riposato né festeggiato, ma c'è il tempo, il tempo di festeggiare questo primo risultato che però dovrà già costituire l'apertura per la nuova fase, siamo già in campo per la nuova fase. Dormito questa notte? Assolutamente no.